Ciao gente, perché così tante persone sono stanche di studiare tanto e ancora non capire l'inglese? Io stiamo chiesto di studiare l'inglese, ma di studiare l'inglese. Sto chiesto di viaggiare al mondo, testare la vita da fuori, per gli Stati, per l'Europa, ma fico in shock di nuovo perché non parlano nulla dell'inglese. Beh, studiando due volte a settimana ci vuole una vita per raggiungere degli obiettivi. Entendere la letra della sua musica favorita. E già pensi offereci il tuo lavoro in un altro paese? Non studiare l'inglese, ma studiare in una scuola che non ha nulla a ver con te. Si senti il pezzo fuori d'acqua, tutto il mondo boizone, viaja il mondo e tu non c'è l'ora sta chebrando. Perchè non ci vuole una cosa che abbia sempre fatto? Non deve sempre essere così. Per questo, c'è la Globalhood. Grazie a tutti.